Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Ieri sera è iniziata la fase a gironi dell'Aim Chess 2021, nuovo torneo rapido online del circuito del Champion Chess Tour. 16 giocatori invitati, partite da 15 minuti più 10 secondi per mossa e tutte partite importantissime e decisive perché solo i primi 8 del girone si qualificano alla fase ad eliminazione diretta. Nella prima giornata ci sono state tante belle partite, ma come non partire da Firugia contro Carza in giocata al quarto turno, una partita bella e combattuta che finirà addirittura col matto sulla scacchiera. Prima di iniziare iscrivetevi al canale per guardare insieme tutti i migliori tonnelli di scacchi e se volete sostenere il canale e migliorare il vostro gioco vi potete abbonare alle video lezioni con soli 2,99€ al mese. Partiamo! All'iresa Firugia di bianco apre la partita con E4, Magnus Karzen risponde con D5 la scandinava e per D5 la donna ricattura, cavallo in C3 sviluppa ed attacca la donna, noi sappiamo che 3 sono le linee principali, naturalmente la donna sotto attacco si deve spostare, donna in A5, donna in D6 e quella che mi piace di più, donna in D8, interessantissima. Karzen gioca donna in A5 che è la più giocata, la più studiata e ormai la più teorica, Firugia conquista il centro con D4. Cavallo in F6, cavallo in F3, di solito il nero fa posto alla donna giocando C6 e invece Karzen gioca alfiere in F5. Alfiera in C4, continuazione principale del bianco, attenzione invece, interessantissima, terza mossa più giocata a cavallo in E5. A cosa serve questa cavallo in E5? Intanto il cavallo è su un avamposto e non può essere per adesso spostato. Insieme alla donna il cavallo, al momento giusto, supporterà la pericolosissima spinta G4 proprio ad attaccare questo alfiere in F5. Allora arriva C6, alfiere in C4 sviluppa e siamo pronti ad arrocco corto, E6. È arrivato il momento di giocare G4, G4 attacca l'alfiere, l'alfiere in G6 arriva anche H4. Ora attenzione perché H5 vince il pezzo, però naturalmente qui non si può giocare H6, guardate che disastro. Cavallo per alfiere si spacca la struttura pedonale, c'è già la cattura in E6, ancora più forte, donna in D3 che si porterà in G6 con scacco, partita già vinta per il bianco. Allora questa è tutta teoria, Karzen gioca cavallo in B che va in D7 che impedisce H5. Ora qui bisogna decidere cosa fare col cavallo, catturare l'alfiere o catturare il cavallo in D7. Come mai questa mossa impedisce H5? Andiamo a vedere che succede. Dopo H5, non giocata da Firuja, cavallo per, cavallo in E5, scusa ho avuto un attimo, stavo calcolando delle varianti, ho avuto un attimo di impasse. Quindi, ora qui naturalmente bisogna catturare. D per E5, il problema è che la donna ricattura il centro con scacco, non soltanto questo. Guardate che la donna centralizzata controlla questa casa E4, quindi male che vada l'alfiere scappa, si porta in E4. Il re si deve spostare in F1, ma ancora più forte di spostare subito l'alfiere. Seconda mossa più forte dopo gli scacchi e l'attacco alla donna. Torre in D8 toglie la donna dalla colonna D. E la donna si porta in E2. Donna per donna, l'alfiere ricattura. Non solo l'alfiere se ne va, ma guadagna il secondo pedone. Perché il primo era stato catturato dalla donna in E5. Quindi, posizione vincente. Poi, tutto terribile posizione del re e dei pezzi. Quindi, posizione vincente per il nero. Quindi, ritorniamo a noi. Quindi, per questo motivo la teoria propone questa mossa. Cavallo in B che va in D7. La ricattura migliore tra le due è proprio quella giocata da Firuja. Cavallo cattura in D7. Non conviene aprire questa colonna H in una posizione in cui il re è veramente un po' scoperto adesso sul lato di re. Siamo ancora poi lontani dagli arrocchi. Invece, attenzione, perché il re nero è vicinissimo all'arrocco lungo in caso di apertura di questa colonna H. Quindi, cavallo per cavallo in D7. Il cavallo ricattura. Arriva H5. Ma l'alfiere si porta in E4 attaccando la torre. Non si può catturare col cavallo perché il cavallo è rimasto inchiodato sul re. Arrocco corto per il bianco. Ricordatevi questa regola. Si può arroccare quando la torre è sotto attacco. Non si può arroccare quando il re è sotto scacco. E quando un pezzo o più pezzi dell'avversario controllano le case dalle quali il re deve passare per arroccare. Ma la torre non c'entra niente. Quindi ricordiamoci sempre questa mossa che addirittura decenni fa tradì anche il grandissimo corcinoi. Quindi, stavolta il cavallo non è più inchiodato. Si minaccia di catturare l'alfiere. L'alfiere torna indietro in D5. Cavallo per D5. Firugia guadagna la coppia degli alfieri. Ora bisogna naturalmente riprendere il pezzo di pedone. Ma non conviene riprenderlo con il pedone E. Se no, si prende subito in faccia lo scacco. Torre in E1. E quindi Carse riprende con il pedone C. C per D5. Alfiere sotto attacco si porta in D3. Alfiere in D6 sulla casa sicuramente più attiva. Donna in F3. Si può sicuramente arroccare corto. Infatti Mossa è già stata giocata. È stato anche però giocato a Rocco Lungo come fa adesso Carse. Pensate, Mossa 16 per il bianco. Soltanto adesso Firugia inizia a pensare. C3 era stata giocata in precedenza. Lui giocherà un'altra buona mossa alfiere in E3. Questa mossa rende la partita originale. Una partita ancora molto equilibrata. Anche se naturalmente la presenza degli arrocchi eterogenei fa presagire che ci sarà una battaglia. G6. E questa è la prima mossa pensata da Carse. Che, pensate, durante la fase di apertura aveva addirittura guadagnato un minuto sull'orologio. Ora, qui naturalmente si vuole aprire questa colonna G. Cosa che sarebbe terribile per il bianco. E infatti Firugia giocherà a H6. Lui vuole tenere chiuso il lato di re. Ritorniamo indietro di una mossa. Prima di pensare a cosa fare sul lato di re. Interessantissimo B4. B4 attacca la donna. La costringerà a spostarsi. Probabilmente in A4. E' buona perché questo è un pedone non avvelenato ma avvelenatissimo. Che non va catturato né di alfiere e tanto meno di donna. Perché guardate che succede. Se l'alfiere cattura torre in A che va in B1. Permette un velocissimo raddoppio delle torri sulla colonna B che porta proprio al re nero. Quindi sicuramente posizione con attacco fortissimo del bianco. Invece Firugia gioca a H6. La torre cosa fa? È bloccata sulla colonna H. Dove si sposta? Si sposta dietro l'unico pedone che sul lato di re ha la spinta di rottura. Ma la spinta di rottura è importantissima. F5. Firugia un po' lento gioca a 3. Arriva a F5. Quindi Karzen ha trovato un po' di iniziativa. C4. E5. Attenzione al forchettone. Ora Firugia non vuole catturare con la donna in D5. Andiamo un po' a vedere che succede. Probabilmente la mossa è migliore. Donna per D5. Porta al cambio donne. Donna per Donna. Il pedone ricattura. Il bianco è un pedone di vantaggio ma brutta struttura. Arriva anche E4. Prima lo scacco. Re in B8. L'alfiere si toglie dall'attacco del pedone. Cavallo in B6. Recupera sicuramente il pedone. Finale probabilmente equo ma brutto finale da giocare contro Karzen. Ritorniamo a noi. Quindi dopo E5 arriva B4 che attacca la donna. Donna in C7 arriva anche C5. Alfiere sotto attacco si porta in E7. Stavolta la cattura della donna in E5 sembra l'idea migliore. E invece arriva Alfiere in B5. Evita naturalmente la forchetta ma E4 arriva lo stesso. Qui addirittura pensate ritorniamo indietro di una mossa. Sia E4 che F4 sono praticamente identiche. F4 non giocata da Karzen. Ugualmente buona perché darà la stessa mobilità ai pedoni. Ora l'alfiere si deve spostare. Arriva E4. Donna in H3. Attenzione brutta questa idea. Re in B8 con buon vantaggio del nero. Stessa cosa accadrà con la spinta E4. Quindi ritorniamo a noi. Alfiere in B5 evita la forchetta di pedone. Ma Karzen continua con E4. Donna sotto attacco. Si porta in H3. Arriva F4 che attacca l'alfiere. L'alfiere campo scuro si porta in D2. Di nuovo come abbiamo visto nella variante precedente. Re in B8. Era una tra le mosse migliori. E invece arriva Alfiere in G5. Buonissima idea quella di bloccare il pedone. Ma però brutta manovra perché era meglio giocare G5. Ritorniamo indietro. L'idea di bloccare il pedone è sicuramente buona. Ma G5 è migliore. Perché mettiamo caso che ora quando sono questi arrocchi eterogenei bisogna giocare dalla parte del proprio attacco. Quindi A4. Magari non sarà la mossa migliore. Ma è una delle mosse più logiche. Arriva Torre in F6. Alfiere in F8. E qui si minaccia la cattura del pedone. Quindi il nero sta sicuramente meglio. Alfiere in G5. E blocca si il pedone ma non permette queste manovre. E quindi Firugia gioca C6. Cavallo sotto attacco. Siamo arrivati al nostro quizzone. Perché ora qui bisogna decidere dove piazzare il cavallo. Se piazzarlo in F6 oppure in B6. Quindi mettete pure in pausa. E a voi la parola. Ritorniamo subito alla nostra partita. E qui naturalmente non conviene catturare in C6. Andiamo a vedere che succede. B per C6. E qui non c'è bisogno di spostare l'alfiere. Si mette la Torre in F e va in C1. Quindi non soltanto inchioda il pedone sulla donna ma riprenderà il pedone. Il Re si deve spostare oppure la cattura di Torre vince la donna. Torre cattura in C6. La partita si è sicuramente riaperta. Quindi Magnus Carlsen istantaneamente sposterà il cavallo in F6. Come mai? Perché ad istinto proprio si cerca di portare il cavallo intanto in maniera offensiva. Si cerca di toglierlo da una posizione dove potrebbe andare sotto l'attacco dei pedoni. Quindi accelerare addirittura l'attacco del bianco. Ora purtroppo qui invece bisognava un po' calcolare. Quindi Carlsen giocherà cavallo in F6 e ritorniamo indietro. Cavallo in B6 invece è buonissima. Ora C per B7 con scacco. Si ricattura di Re. Arriva a 4 ma a 5 non arriverà con tempo e non farà mai paura al nero. Perché il cavallo salta in C4. Chiude addirittura tante linee di attacco. E l'attacco ce l'ha in nero. Perché anche dopo torre in F che va in C1. Arriva a 6. Alfiere per cavallo. Il pedone ricattura. C'è un pedone passato. La torre sta pure attaccando il centro della scacchiera. Senza considerare tutte le altre occasioni che Carlsen avrebbe continuato ad avere sul lato di Re. Ritorniamo a noi. Quindi cavallo in F6. Un mezzo errore. Eh ma queste sono partite rapid. C per B7 con scacco. La donna ricattura. Arriva allo scacco di torre. Ora brutta storia. Perché vedete nella variante precedente gli scacchi non c'erano. Il Re si porta in B8. Alfiere sotto attacco della donna si porta in C6. Protetto dalla torre. Donna sotto attacco va in E7. Torre in C5. Arriva E3. Quindi 4 minuti per Carlsen. Poco più di un minuto per Firugia. Firugia fa subito questi cambi di pedone. Interessantissimo e forte. Sarebbe stato invece prima dei cambi lo scacco intermedio torre in B5. Guardiamolo subito. Che dopo torre in B5 con scacco. Il Re si porta in C8. Ora se si fosse portato naturalmente in C7. Torre in B7 infilata vince la donna. Arriva alfiere in B7 con scacco. Re in D7. L'alfiere cattura in D5. Ora non si può catturare l'alfiere. Perché naturalmente c'è la ricattura con scacco. Bisogna stare pure attenti a questa infilata di torre. Torre in B7. Scacco che vince la donna. Quindi bisogna giocare torre in B8. Ma torre in A5 ripropone il solito tema dell'infilata. Quindi il Re si deve spostare. Ma le torri sono disconnesse. Soltanto adesso conviene giocare F per E3. F per E3. Alfiere in E1 con un grande vantaggio del bianco. Ritorniamo a noi. Invece Firugia gioca subito F per E3. F per E3. Ora fate attenzione in questo cambio di pedone. A cosa si è aperto? Si è aperta questa diagonale scura. Che porta proprio al Re nero. Alfiere sotto attacco si porta in E1. Questo avanzamento del pedone ha lasciato libera la casa E4. Quindi Karzen gioca cavallo in E4. Porta il cavallo in maniera sempre più offensiva. Attacca anche la torre. Ma questo è l'ultimo errore della partita. Perché qui non solo la torre se ne può andare con il solito scacco. Torre in B5 con scacco. Ma la mossa giocata da Firugia. Donna in H2 con scacco. Coglie Karzen totalmente impreparato. Pensate che il campione consumerà quasi tutto il tempo a sua disposizione. Che era più di 3 minuti per giocare la prossima mossa. Re in C8. Alfiere in D7. Scacco doppio. Ora naturalmente non si può portare il Re in B7. Perché dopo Re in B7 donna in C7 con scacco. Ed è sempre matto in 1. Se Re in A8. Alfiere in C6 scacco matto. Se Re in A6. B5 scacco matto. Quindi dopo Alfiere in D7 con scacco. Bisogna accettare il pezzo. Supportata dalla donna. La torre si muove in C7 con scacco. Se Re in E8 si vince la donna. Ma qui non c'è più tempo. Karzen giocherà Re in E6. E allora supportata dal pedoncino. Donna in E5. Scacco matto. Una vittoria importantissima per Firugia. Che stava faticando non poco nei turni precedenti. Una bella scandinava invece giocata da Karzen. Al quale è mancato un po' il guizzo finale. Come al solito vi lascio la classifica in descrizione sotto al video. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta non scordate il like. Soprattutto non scordate di iscrivervi al canale. E noi naturalmente ci rivediamo domani con un nuovo video. A presto. E noi naturalmente ci rivediamo domani con un nuovo video. Grazie. Grazie a tutti.